Ufficiale, si parte col bonus spesa a cashback da 300 euro. Quando? Beh, in via sperimentale dal primo di dicembre e strutturale dal primo gennaio 2021. Buongiorno signori, io sono Mr. Lul e adesso vi spiego per bene come fare per ottenere i rimborsi su tutti i vostri acquisti perché sarà necessaria una app. Adesso sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale. Partiamo! Quindi, come già ci siamo detti nel video di approfondimento, metto il link in descrizione, su tutti gli acquisti effettuati con Bancomat, carte di credito e altri strumenti tracciabili si potranno avere rimborsi fino a 300 euro all'anno, 150 a semestre. Attenzione però, per i soli acquisti effettuati dal primo al 31 dicembre 2020, il lockdown permettendo, si potrà arrivare ad un rimborso fino a 150 euro che schifo non fanno, ah, ovviamente per chi effettuerà almeno 1500 euro di acquisti. Infatti parliamo pur sempre di un cashback del 10% sugli importi spesi. Saranno sufficienti poi per avere diritto al rimborso in via sperimentale per il prossimo mese di dicembre solo 10 transazioni che diventeranno 50 a semestre da gennaio. I primi rimborsi inizieranno poi da febbraio 2021. Per ottenere questo bonus però attenzione perché bisognerà obbligatoriamente scaricare e registrarsi sulla app Io, la stessa già utilizzata per il bonus vacanze, per intenderci, associando al proprio codice fiscale una o più carte di credito o di debito e il codice IBAN sul quale ricevere appunto i rimborsi. Vi ricordo che non ci sono limiti alle categorie merceologiche, quindi anche fare la spesa al supermercato darà diritto al rimborso. Sono invece esclusi gli acquisti online, ma le consegne con contestuale pagamento con i post portatili rientreranno nel programma. Questa è una cosa molto interessante. Detto questo, insomma, io vado subito a scaricarmi la app Io. Un saluto a tutti da Mr. Lul e lasciate un bel like per sostenere il video e il canale. Un saluto a tutti, di nuovo, da Mr. Lul.